Il problema è che non c'è in crisi, sai c'è in crisi solo questo settore, c'è in crisi il tessile comasco, il mobile brianzolo. I maialini della Sardegna, mi hanno fatto crollare un mito, io sono stato in Sardegna, le normative europee demenziali fanno sì che l'80% dei maialini che si mangiano in Sardegna arriva dall'Olanda. E non sono più buoni i maialini olandesi di quelli sardi, evidentemente non siamo più in grado di competere. Ripeto, per mille e uno motivi, le arance della Sicilia, se l'Europa fa un accordo col Marocco, non sono diventate più cattive le arance della Sicilia. Il latte, se consumiamo la metà del latte che arriva dalla Polonia o dall'Ungheria, non è che il nostro latte è meno buono, il frigorifero è meno bello, l'automobile è meno efficiente. Io torno lì, c'è un patrimonio che stiamo buttando via, si può ripartire? Sì, io sono ottimista, assolutamente l'Italia ha delle energie incredibili. Però, se difende le sue arance, i suoi frigoriferi, i suoi maialini, l'alta gamma, però non possiamo vivere solo sull'alto, per carità di Dio. Però qua ci sono 18 milioni di italiani a rischio povertà, che non possono permettersi l'alta gamma. Quindi o torniamo a investire anche e a difendere. Sentivo la Turchia, noi siamo così furbi come Europa che abbiamo dato alla Turchia 10 miliardi di euro in questi anni per invogliarli a entrare in Europa. Questi non sono fessi, in Europa non ci entrano, ma hanno preso 10 miliardi con cui fanno concorrenza, ad esempio nel settore della calza, che è stata inventata a Mantua, esportavano in tutto il mondo e adesso è messa in difficoltà dalla concorrenza. L'Europa è l'unica realtà del mondo che non difende. Gli Stati Uniti difendono, la Cina difende, il Canada difende, l'Europa apre. E poi ci credo che venisse. Posso chiedere?